Benvenuto su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie ti invitiamo a iscriverti al canale. Per noi il tuo contributo è importante. Federica Panicucci è senza dubbio una delle conduttrici Mediaset più amate e apprezzate, una vera regina di Canale 5. D'altra parte, il compagno Marco Baccini è un noto imprenditore milanese, attivo nel mondo dello spettacolo e della moda, che tuttavia ha sempre cercato di rimanere lontano dai riflettori e dalle telecamere. I due, a proposito della loro storia d'amore, sono molto riservati, e non si hanno dunque molte informazioni sul loro rapporto. Nonostante questo, i fan più attenti hanno notato di recente un cambiamento sui social che potrebbe lasciar pensare a un periodo di crisi della coppia. Scopriamo di più. Federica e Marco, pur mantenendo una certa discrezione, non si sono mai tirati indietro nel mostrare l'amore che provano l'uno per l'altra. La Panicucci ha sempre condiviso sui social dolci immagini e video di coppia, mostrando momenti felici e di complicità. Di recente, però, i fan più attenti si sono resi conto che qualcosa è cambiato. Le foto e i video che prima riempivano i loro profili sembrano essere scomparsi. La stessa esperta di gossip di Yanira Marzano ha reso nota sui social la segnalazione di un utente che le ha fatto notare come la Panicucci e il compagno non facciano contenuti social insieme, ormai da mesi. Lei stessa ha quindi confermato che questo potrebbe effettivamente essere indizio di qualcosa che non sta proprio andando nel verso giusto. Perché la Panicucci e il compagno Marco non appaiono più insieme? C'è aria di crisi nella coppia?